Sacro e profano, sacro, terra di santuari, di madonne, profano, terra di scazzamaurielli, di streghe, di briganti, e non solo. Ma è un incontro tra territori che attraverso la storia vogliono crescere e loro hanno la storia del vino e il vino è la sorgente vitale dell'uomo da sempre, per cui nel vino c'è verità, la verità del futuro su cui stiamo costruendo il nostro futuro. Il suo atto è merito alla capacità di saper proporre il territorio di Matera, la città di Matera, e noi cercheremo di prendere esempio da questo grande esempio per cercare di fare anche noi qualcosa di buono per il nostro territorio. Noi dobbiamo rendere distintivo il nostro prodotto, non lo possiamo mercificare nel consumismo totalizzante, dobbiamo avere la forza e l'energia di dimostrare che siamo marcatori territoriali e quindi abbiamo il privilegio di essere unici e universali. Scopriremo anche gli odori, io so la karma, so io la pace.